Cosa ci metto nel mio lavoro? Ciao sono Daniele Patassini, titolare dell'ADP Immobiliare. Il lavoro dell'agente immobiliare ha come tutti i lavori tanti aspetti, positivi e negativi, e ognuno li affronta nel modo che ritiene più corretto e produttivo. Non credo che ci sia una formula magica per aiutare le persone a realizzare il progetto di vendere o acquistare una casa, ma una serie di azioni e comportamenti che ogni giorno cerco di attuare. Ecco allora cosa ci metto dentro il mio lavoro. Ci metto impegno ed entusiasmo. Per fare bene ci vuole tanta motivazione e costanza, senza lasciare nulla per scontato, tenendo conto di ogni situazione, di ogni elemento, di ogni possibile imprevisto, mantenendo la concentrazione. Perché è un mestiere in continua evoluzione, che richiede tempo e dedizione, per cui non si può costruire il rapporto tra due persone con esigenze diverse solo per fortuna o per caso. Se poi si aggiunge all'impegno anche l'entusiasmo, si riesce a portare i propri clienti verso traguardi sperati con maggiore fluidità e leggerezza. Ci mette ascolto e correttezza. Sono elementi essenziali in ogni rapporto, da quello personale a quello sociale a quello professionale. Ascoltare significa dare voce alle esigenze che ognuno ha, comprendere cosa mi stai dicendo e perché. Essere corretto significa indicare da subito ognuno le proprie volontà, senza infingimenti, con trasparenza. È un lavoro non semplice, non tutti siamo portati a dire le nostre cose a sconosciuti. Ma quando si crea quella sinergia, tutto appare più naturale e tutto va gestito con delicatezza e comprensione, rispettando ognuno le proprie posizioni. La tua che devi vendere o acquistare, la mia di professionista che devo aiutarti a farlo, oppure semplicemente consigliarti in una scelta. Ci metto una preparazione continua. Quello che serve per far funzionare tutto è anche essere sempre aggiornati. Conoscere il mercato, le sue sfaccettature, sfruttare tutta la tecnologia attuale, imparare a presentare gli immobili attraverso moderni canali e metodologie più recenti. Avere cioè quindi una visione d'insieme trasversale, che non si ferma a concludere un incarico o a firmare una proposta, ma va a guardare quello che c'è prima e dopo, perché l'intero percorso sia lineare e quando un po' articolato avere così i mezzi giusti per sistemarlo. Spero di averti passato un po' di come svolgo questo lavoro. Se vuoi ne parliamo di persona meglio. Contattami pure. Sono qui e questa è una pillola immobiliare per te.